La scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia dell'Università di Bologna ha sede presso l'Istituto Ortopedico Rizzoli, che è l'ospedale dedicato alla ricerca e alla cura delle malattie delle ossa e delle articolazioni più vecchio del mondo occidentale. Ritengo che la formazione di ricerca dello specializzando sia la base da cui puoi partire per diventare un vero ortopedico. Il Rizzoli permette di vedere più mani chirurgiche, più approcci chirurgici, si può spaziare da divisioni diverse e anche confrontare di fronte alla stessa patologia tecniche o indicazioni differenti. Quel che conta è lo studio personale, l'attività di ricerca e l'esperienza clinica.